Ciao amici, finalmente dopo un mese di assenza dal laboratorio sono riuscito a scendere giù e dedicarmi un po' al fai da te, un po' al canale, un po' a voi e girare questo brevissimo video di aggiornamento per spiegarvi cosa è successo in questo mese di assenza dal canale, insomma. Purtroppo, come sapete, nel mese di ottobre anche la regione Marche, nella quale io risiedo, è stata investita dalla seconda ondata di Covid. Io lavoro in sanità e quindi ho avuto un mese abbastanza complicato al lavoro. Come avete visto, il sistema sanitario è stato messo sotto stress da questa prova che ci si è prospettata. Anche io ho avuto dei giorni duri, ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con dei malati di Covid. Purtroppo anche molti colleghi hanno contratto il Covid, stando a contatto quindi con pazienti infetti. Grazie a Dio io e la mia famiglia siamo riusciti a rimanerne fuori. Questa è una cosa che comunque mi ha motivato tantissimo. Riuscire a lavorare con scienza e coscienza e portare a casa dei risultati importanti per se stessi, per la propria famiglia e soprattutto per i malati è una cosa che mi ha dato tanti stimoli. Però purtroppo sono dovuto stare lontano dal canale e dalle cose che mi piace fare, ma l'ho fatto molto volentieri. Le novità non mancano qui in laboratorio. Io ho diversi oggetti da farvi vedere, oggetti che ho acquistato, ve li mostro. Oggetti che ho acquistato per sopperire un po' alle carenze che ho sia dal punto di vista della precisione sia dal punto di vista della verniciatura. Come sapete non sono molto bravo a verniciare, ho deciso di realizzare anche un piccolo jig che mi ha fatto notare un follower che manca qui in laboratorio. E finalmente devo finire la porta per i miei genitori perché è da giugno che ci sto dietro e veramente tra un po' penso che loro mi diranno Mauro guarda ce la compriamo, non la vogliamo più la tua porta. E quindi niente ragazzi, volevo solo aggiornarvi rispetto a queste novità, dove sono stato, quali sono le prospettive del prossimo futuro. Brevissimo video per aggiornarvi e ci vediamo presto. Al prossimo video, ciao! Al prossimo video, ciao!